Ciao a tutti, io sono sempre Pier Giuseppe e quest'oggi sarò io insieme a voi a dare il buongiorno a Gesù nella speranza di iniziare al meglio questa giornata. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Gesù disse loro, in verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che gli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre resuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Dopo la guarigione del paralitico, avvenuta in giorno di sabato, Gesù viene contestato dai suoi avversari, che lo accusano di non rispettare i comandamenti di Dio. E Gesù svela la cosa che cosa lo spinge ad agire, superando persino le prescrizioni della legge. Le sue azioni, i miracoli con cui libera le persone da ogni sorta di male, nascono dalla sua perfetta intesa con il Padre, da un'identica volontà, fare il bene dell'uomo. Un'intesa che ha nel loro amore reciproco la sua sorgente vitale. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, il tuo sguardo e la tua volontà sono rivolti in ogni momento verso il Padre. Come Lui e insieme a Lui hai il potere di dare la vita o di renderla a chi l'ha perduta. L'unica condizione è credere in te e in Lui. Che il mondo ti riconosca come inviato del Padre e ti accolga come unico salvatore, il solo capace di ricreare la vita vera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi rivolgo personalmente un abbraccio virtuale nella speranza di tornare al più presto a poterci abbracciare come si deve. Ciao ciao!